buongiorno a tutti oggi è mercoledì ieri abbiamo saltato un video perché non non sono assolutamente riuscita ho messo il telefono al girato al contrario quindi io di solito guardo da quella parte adesso la fotocamera da questa parte e non ci si capisce niente dunque sono fuori da scuola di ele e di qua devo guardare sono un po in mezzo alla strada e la gente passa e mi guarda e quindi io sono un po come dire mi vergogno oggi inizio il video da qua perché perché altrimenti non avrei modo sarà un video sicuramente fatto dentro la macchina prima e dopo perché altrimenti non avrò modo di girare neppure oggi meglio non avrei modo invece lo sto facendo stamattina vado dunque la prima mattina dopo tre settimane in cui io sono libera da bambini appendici varie perché tommaso finalmente oggi è rientrato a scuola dopo i due giorni di balottaggio elettorale e eleonora è a scuola e si sa quando va ma non si sa quando ciò quanto durerà insomma tu sai che la porterai ma non sai cosa succederà e quindi oggi io vado ieri ho prontamente fatto prendere l'appuntamento dalla mia amica dalla parrucchiera quindi sto andando ho dei capelli osceni o proprio osceni oggi li ho addirittura pettinati prima di legarli perché erano ricci e sto andando a farmi la ricrescita perché ho questo buco riesco ad andare a farla la prossima volta chissà quando sarà in queste tre settimane ho già saltato appuntamenti vari dall'estetista e quindi almeno la ricrescita ce la leviamo perché veramente non no ieri non ho girato per niente ero stavo con tommaso perché siamo andati abbiamo accompagnato le poi abbiamo siamo andati in giro a fare delle commissioni a piedi vicino casa e mi è venuta l'illuminazione era una cosa che volevo fare da tanto e quindi mi sono decisa lo faccio sta passando un sacco di gente vergogna ormai non ci si scandalizza più a vedere la gente che passa che parla da sola col telefono tuttavia io mi imbarazzò stessa e siamo andati al palazzo delle esposizioni per vedere la mostra non è esattamente una mostra perché cioè è una stanza munari montessori è è di per sé una piccola esposizione di i lavori principali insomma le tecniche principali dell'insegnamento ai bambini quindi insomma diciamo che il problema qual è che di per sé anche una cosa carina è gratuita ecco magari farsi un viaggio per arrivare per andare a vederla io direi di no nel senso che non ne vale poi la pena se ci capiti allora sì un salto dato che gratuita io ce lo farei infatti l'ho fatto proprio perché eravamo lì a piedi vicino casa e niente il problema qual è che le installazioni che ci sono i tavoli che hanno preparato con con tutto il materiale montessoriano la maggior parte del quale insomma conosciamo eccetera non si può toccare quindi essendo una esposizione fatta per i bambini se non si può toccare il diciamo l'80 per cento delle cose presenti non si possono toccare diventa un po un problema anche per chi ce li porta soprattutto a seconda dell'età che hanno i bambini io sono andata con tommaso perché avevo paura proprio di questo problema covid e quindi avevo paura di portare a parte che non sapevo come fosse fatta quanto fosse che mi aspettavo qualcosa di più sicuramente e quindi sono stata contenta di averci portato prima solo tommaso praticamente c'è un tavolo riservato il tavolo rosso che il tavolo riservato alla manipolazione l'oggettistica quindi diciamo le cose che i bambini possono fare viene cambiato una volta al mese quindi probabilmente faranno ruotare tutti i materiali che hanno poi esposti negli altri tavoli li faranno ruotare mensilmente suppongo e mensilmente lo dico perché la il signore all'ingresso ce l'ha detto quindi se voleste voler tornare se voleste tornare sappiate che una volta al mese noi cambiamo quindi questo mese trovate questa roba il mese prossimo ne troverete dell'altra e c'è questo tavolo rosso in cui ci sono un disegno da ricopiare attività manipolatorie tipo di puzzle una cassettina intera che è la la cassettina della botanica quindi con tante tanti puzzle da ricreare a tema botanico poi ci sono quello del secolo delle forme e infine c'è quello del con le forbicine quindi la carta quindi da riprodurre un quello che vuoi oppure poi riprodurre quello che c'è lì c'è un albero fatto di carta e poi c'è un tavolino piccolino con una cosa molto carina dove tu ti puoi sedere a fare dei disegni e probabilmente il posto è uno quindi ci si arrangia un po e poi magari a seguire vi metto quel pezzettino che ho girato ieri per instagram così magari un mezzo occhio se lo potete dare la cosa carina è che c'erano divisi tutti i pastelli ciascuno nel suo contenitore del colore del del colore del pastello quindi c'era il contenitore nero con tutti i pastelli neri e così tutta la scala di colori molto carino da vedere molto montessoriano infatti è tutto a portata di bambino che ve lo dico a fare il problema appunto che a portata di bambino ci sono anche le cose che non si possono toccare quindi mi sono immaginata portando i anche leonora che c'è come glielo spieghi allora noi siamo andati in apertura a per alle 10 siamo arrivati prima perché ripeto eravamo lì non ho fatto caso all'orario infatti l'ho trovato chiuso ho chiesto informazioni mi ha detto no signora è che non sono ancora le 10 non è ancora aperta brava e abbiamo fatto un salto al supermercato e poi siamo siamo ci siamo andati appena siamo arrivati dunque noi siamo entrati con un'altra famiglia mamma e papà con un bimbo che più o meno aveva l'età di ele infatti li ho visti un po penare quando questo bimbo giustamente avrebbe voluto anche andare a cacciare tutti gli altri tavoli ecco perché non so se sia il caso e e poi verso la fine della nostra esperienza che veramente dura pochi una mezz'oretta se fate le attività varie una mezz'oretta ci state quindi non vi immaginate chissà che cosa è arrivato un'orda di un gruppone forse organizzato ma non era roba scolastica perché la scuola era chiusa era proprio un gruppone di mamme che si sono organizzate per passare la giornata quindi insomma bisogna stare attenti un po anche a quello che quando diventa affollato il tavolo disponibile e uno cioè a me vedere tutti questi bambini accalcati poi con le mamme che se ne fregano con bambini oltre ben oltre i sei anni senza mascherina ma questa è colpa però anche di chi sta lì a controllare il museo perché per carità se metti un dito sul tavolo dell'esposizione per i bambini si possono accalcare senza mascherina quindi questa è una di quelle fesserie che vabbè quindi io quando ho visto l'andazzo ho detto no ok per fortuna ci spostiamo al bar abbiamo fatto merenda e poi ce ne siamo siamo tornati a fare un disegnino che ci mancava e poi ce ne siamo andati prima di andervi abbiamo fatto un giro al gift shop che in realtà non è un gift shop ma è una vera e propria libreria infatti mi stavano rimanendo incollati alle mani un po troppi libri per fortuna poi non ne ho comprato neanche uno però ho avuto delle belle idee magari per la befana perché io di solito per la befana regalo sempre minimo un libro a ciascuno quindi un paio di idee ce le ho basta adesso vado dalla parrucchiera anche perché l'appuntamento è tra più di un'ora tra un'ora e venti per la precisione ma io devo tra un'ora e venti è tantissimo vabbè però vado in quella zona perché devo andare al non devo andare all'euro devo andare dopo l'euro quindi ho l'estetista che sta nel roma nord ma proprio nord che praticamente non è quasi più roma mentre la parrucchiera che sta a roma sud che praticamente così sud che quasi non è più roma quindi sono un genio genio del male ci vediamo dopo io pensavo di avere troppo tempo a disposizione ma sono 9 e mezza quindi sono passati 20 minuti ho fatto sì e non chilometro e mezzo ci ho messo un'ora d'orologio un'ora per fare 20 chilometri al massimo forse anche meno no mi pare 20 chilometri un'ora salve va bene adesso sono un filino in anticipo ora vado a chiedere se è possibile iniziare subito altrimenti torno in macchina aspetto ce l'abbiamo fatta ho finalmente dei capelli come una persona umana oggi tra l'altro c'era una nuova una nuova parrucchiera che perché hanno cambiato la seconda parrucchiera con cui mi sono trovata benissimo per fortuna dopo l'esperienza tragica del mese scorso che è stato proprio una roba orribile e niente quindi ciao capelli bianchi abbiamo eliminato i capelli bianchi tra l'altro da quando vado da questa parrucchiera sto utilizzando perché le utilizza lei non perché le abbia le abbia cercate io ma mi trovo molto bene usa le prodotti naturali quindi con il colore con le erbe tintorie e tra l'altro ovviamente adesso sembro bionda ma no assolutamente è un sto facendo sto cercando di tornare tutta scura ovviamente questa parte qui è ancora molto più chiara per quanto poi la il colore venga sparso nonostante io stia facendo solo la ricrescita venga poi sparso prima del lavaggio fino a giù per tonalizzare un pochino anche le punte per non avere troppo troppo però magari se chiudessimo qui chiudiamo il tettuccio perché veramente sembro sembro bionda ma in realtà no sono scura ecco vedete il colore scuro è solo che ovviamente ci sono ancora i riflessi qua che sono più chiari per un colore che mi piace molto la mia intenzione finché non li taglierò quindi queste punte chiare andranno via è quella di tornare al mio colore naturale perché voglio vedere un po come come mi mi vedo con i capelli scuri nuovamente dopo dopo tanti anni perché alla fine sono circa cinque anni che io i capelli più chiari e non ho mai smesso di rifarli quindi voglio vedere come mi sento con i capelli scuri di nuovo ciò che qua sembrano più chiari eh no ma è la luce tanto poi lo vedrete normalmente va bene io torno a casa è mezzogiorno e cinque torno verso casa quindi arriverò a casa all'una almeno e basta e poi dovrò andare a prendere ele e dopo però alle quattro mentre oggi tommaso a kung fu essendo mercoledì e quindi andremo a prenderlo alle sei meno un quarto ci vediamo dopo mi sa che prima non ho salutato quindi siccome sono tornata a casa ho mangiato ho fatto tutto eccetera eccetera adesso mi metto a sistemare un pochino gli armati dei bambini che ho iniziato a fare lo scorso weekend ho fatto il cambio di stagione che poi lo sapete con i bambini non è mai cambio di stagione ma è cambio taglie capire che cosa va conservato cosa si può conservare che per l'anno prossimo perché poi non si è imparato mentre con il cambio autunno io faccio il salto autunno primavera no con l'estate per forza deve passare un anno io tutti sarà così per tutti ovviamente quindi capire che cosa andrà bene per l'anno prossimo oppure no oppure che cosa tenere di tommaso eventualmente per leonora ogni tanto capita qualcosa un paio di scarpe magari qualcosa di poco usato ma in genere no devo finire di sistemare alcune cose quindi ora mi metto a sistemare alcune cose nell'armadio dei bimbi così al manche quello è fatto non ci pensiamo più devo dire che è stato molto soddisfacente questo cambio armadio perché i bambini non hanno bisogno praticamente di niente e leonora adesso continua ad utilizzare i leggins che le ho preso durante l'anno non mi ricordo se in primavera o lo scorso inverno non mi ricordo comunque cose di cotone semplici le felpine le ho comprate quelle che avete visto nel video della della lidl che le piacciono molto le felpine e le felpine vestito così e tommaso invece per il momento non ha bisogno di nulla gli sta tutto quello che aveva diciamo che ha utilizzato fino alla scorsa primavera quindi finché gli stanno queste cose tiriamo avanti anche perché il cambio taglia soprattutto di non tanto di magliette e felpe che è quello al massimo un po lungo e via ma per i pantaloni adesso inizia il problema del rapporto tra altezza e vitino da vespa quindi per fortuna adesso la taglia 120 122 centimetri e i cenen fa 122 e alcune volte 122 128 gli va e anche qualcosa di decathlon sempre dello scorso anno gli va quindi devo dire che le scarpe ce le hanno tutte e due ho anche comprato nel frattempo un altro paio di adidas per leonora che ha cambiato lunedì ha portato le scarpine per l'asilo insomma quindi anche quelle le abbiamo cambiate probabilmente per lei comprerò quando i leggings che ha le strano un po più stretti faremo il cambio taglia di quello ma per il resto io credo che insomma possia po possano tirare avanti tranquillamente piuttosto lei bisogna bisognerà vedere quando lei inizierà o scusate ancora il cuffietto perché stavo pranzando ascoltando harry potter cosa stavo dicendo che probabilmente inizierà insomma entro natale faremo lo spannolinamento e quindi bisognerà vedere il come dire la quantità di cambi che dovrà avere tra casa e scuola e bisognerà vedere se la mia asciugatrice decide di morire oppure di tornare a collaborare non lo so nonostante io l'abbia lasciata seccare ben dentro per quasi quattro mesi sono bastati 3 4 asciugature che cicli di asciugature che ha ricominciato ad imbarcare acqua giù perché ci sono delle parti interne così profonde che non si possono né smontare né cambiare e né pulire perché non c'è proprio modo di pulire alcune parti e evidentemente lì si crea un tappo per cui l'aria non filtra proprio e si imbarca umidità e quindi acqua e quindi la roba io la devo ristendere perché esce umida non bagnata però umida e quindi ci vuole il triplo del lavoro va bene basta volevo solo salutarvi ora vediamo se entro oggi riusciamo a perché insomma di solito a quest'ora il video è già in caricamento comunque vediamo se entro stasera riuscirete a vedere questo video se no ve lo vedrete domani cioè il vostro oggi a domani domani non lo so comunque ciao